Benvenuti a questo video dedicato all'andamento del prezzo dell'olio extravergine di oliva in Italia negli ultimi due anni, e alla connessione con l'aumento generale dei costi di produzione agricoli. Esploreremo anche le sfide legate alla carenza di prodotto a livello mondiale ed europeo, con un'attenzione particolare alla situazione in Spagna. Inoltre, scopriremo le caratteristiche distintive dell'olio pugliese, in particolare della varietà peranzana. Per comprendere l'andamento del prezzo dell'olio extravergine di oliva in Italia, esaminiamo i dati degli ultimi due anni. Secondo fonti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il prezzo dell'olio è aumentato del 15% nell'ultimo anno. Questo aumento può essere attribuito a diversi fattori, tra cui condizioni climatiche avverse, fluttuazioni economiche globali e una carenza di produzione a livello mondiale ed europeo. La Spagna, che è il maggior produttore di olio d'oliva in Europa, ha affrontato una sfida significativa nella passata stagione. Secondo le informazioni fornite dall'International Olive Council, la produzione di olio d'oliva in Spagna è diminuita del 30% a causa di fattori climatici avversi e malattie delle piante. Questa carenza ha avuto un impatto sul mercato europeo e mondiale, contribuendo all'attuale aumento dei prezzi. Parallelamente all'andamento dei prezzi dell'olio d'oliva, è importante considerare l'aumento dei costi di produzione agricoli. Secondo un rapporto dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, i costi di produzione sono aumentati in media del 10% nell'ultimo biennio. Questo è stato influenzato da un incremento dei prezzi dei carburanti, dei fertilizzanti e delle spese per la manodopera. Tra le varie regioni produttrici di olio d'oliva in Italia, la Puglia si distingue per la qualità dei suoi prodotti. In particolare, la varietà peranzana si contraddistingue per le sue caratteristiche uniche. Secondo uno studio dell'Università degli Studi di Bari, l'olio peranzana è noto per il suo aroma fruttato e delicato, con sentori di mandorla e mela. Le sue proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie lo rendono una scelta eccellente per una dieta equilibrata. In conclusione, l'andamento del prezzo dell'olio extravergine di oliva in Italia negli ultimi due anni riflette una serie di fattori complessi, tra cui la carenza di produzione a livello mondiale ed europeo, nonché l'aumento dei costi di produzione agricoli. Nonostante le sfide, la qualità dell'olio pugliese, in particolare della varietà peranzana, continua a brillare grazie alle sue proprietà uniche. La scelta consapevole di prodotti di alta qualità non solo arricchisce le nostre tavole, ma sostiene anche gli agricoltori locali e la tradizione italiana dell'olio d'oliva.